Primi giorni di ritiro, come sta la squadra? La squadra sta bene, i ragazzi stanno bene, lavorano tutti bene, non abbiamo infortuni grossi per adesso, per cui siamo contenti. Il vice allenatore di Mr. Ballardini, in cosa consiste il lavoro del vice allenatore? Ce lo puoi spiegare un po' anche per far capire ai tifosi rosa e nero chi è Carlo Regno? Carlo Regno è una cosa, il lavoro del vice allenatore è un'altra, Carlo Regno non ha importanza chi è, invece per quanto riguarda il vice allenatore deve essere una persona affidata, di grandissima fiducia, dove il mister ha veramente stimi in lui, dove qualche volta ci si consiglia, dove ti chiede qualche piccolo parere e tu devi cercare di dire sempre la verità e quello che pensi. Quanto è importante un ritiro per preparare bene una stagione? Per me è importantissimo, più che dal punto di vista fisico, dal punto di vista della socializzazione, proprio di far gruppo e della coesione. Poi dal punto di vista fisico, tecnico, tattico, si lavora bene in armonia, in santa pace, è fondamentale. Però dopo il lavoro ha proseguito per bene a Palermo in campo durante la settimana, che è quello che conta moltissimo. In questa prima settimana tutte queste caratteristiche che lei ha elencato le ha trovate nel gruppo? Sì, abbiamo fatto i test e risultano che stanno abbastanza bene e per cui avremo modo di lavorare e punti su cui poter lavorare. Mister Ballardini lei lo conosce da tanti anni e ce lo racconta anche un po' fuori dal campo, com'è? Mister Ballardini noi ci siamo conosciuti al Bologna Calcio, che allenavamo le giovanili. Lui gli allievi giovanissimi, ci siamo conosciuti lì, c'è stato un grande stimo, un grande rispetto fra le persone e siamo andati a lavorare assieme a Cagliari Sera per la prima volta. Poi dopo adesso 8 anni che stiamo insieme, come persona fuori dal campo è una persona eccezionale perché mi dispiace che casomai dia l'impressione di essere così che non ride mai, insomma un po' schivo, invece è una persona eccezionale con dei grandi valori a livello umano.